Un saluto a tutti i lettori di TechGenius, oggi siamo qui a Milano per la presentazione di Surface Pro 3, il nuovo ibrido tablet PC che ha presentato Microsoft e che verrà lanciato il 28 agosto qua in Italia. Siamo in compagnia di Luca Callegare, responsabile marketing per Surface Microsoft in Italia. Ciao a tutti, innanzitutto come vi dicevo oggi ho l'onore di potervi introdurre Surface Pro 3, un prodotto che nasce come un tablet ma che si istituisce totalmente a quello che oggi è un notebook, perché? Innanzitutto una delle caratteristiche principali che abbiamo studiato dal consumatore finale nella versione precedente è che cerca un tablet che abbia una risoluzione di schermo e un'ampiezza di schermo superiore per poter essere produttivo, da uno schermo da 10,6 pollici a uno schermo di 12 pollici. Schermo che ha uno spettro di tre mezzi, quindi che ci permette di lavorare sia in modalità portrait che in modalità landscape con innovazione rispetto alla precedenza e soprattutto una renderizzazione delle icone così ampia che ci permette di avere contenuti all'interno dello schermo 6% superiore a questo altro notebook oggi sul mercato. Ma proprio perché il consumatore finale, nel caso specifico, qualche professional, studenti, proprio MBA o università o creativi cercano di lavorare con questo prodotto in mobilità, una delle caratteristiche fondamentali che cercano è la possibilità di poter prendere appunti o di poter lavorare grazie alla nuova penna, una penna in alluminio quindi con la consistenza di una vera e propria penna e che con un semplice click mi permette immediatamente di aprire OneNote. OneNote con il quale posso cominciare a scrivere come esattamente su un pezzo di carta e come vedi quello che sto facendo appoggio il palmo della mia mano come scrivo sulla carta ma non ho nessun tipo di riflesso, nessun tipo di resistenza da parte della tavoletta digitale. Perché? Proprio per questa nuova tecnologia palmi che abbiamo sviluppato e grazie ai gradi di stabilizzazione 256 addirittura della penna stessa posso fare questo tipo di schizzo esattamente come farei su un pezzo di carta. Quindi io disegno male su un pezzo di carta, disegno male anche sulla tavoletta ma questa è esattamente la mia scrittura. Se tu pensi che oggi l'utente medio utilizza per due ore e mezzo un pezzo di carta per prendere appunto e scrivere, pensiamo che grazie a questo utilizzo, grazie a questa penna e a questa nuova tecnologia, la carta sparirà completamente dall'utilizzo quotidiano delle persone. Inoltre una delle ansi più grossi che ha il consumatore oggi è bene, ho preso un appunto, ho preso anche gli appunti quando sono in università per esempio. Cosa voglio fare? Voglio essere sicuro che gli appunti non vadano persi. Riclicco, immediatamente il contenuto una volta che io riclicco si salva in automatico su il nostro cloud e quindi inserendo poi l'account Microsoft che io ho utilizzato su questo dispositivo, sul mio telefono, sul pc o su un altro tablet posso ritrovare gli stessi contenuti in maniera in tempo reale. Quindi l'ansia di perdere un contenuto o perdere un appunto di un pezzo di carta sparisce totalmente. Il prodotto stesso però non è solo un prodotto produttivo, è un prodotto altamente multimediale anche. Quindi fotocamera posteriore da 5 megapixel, fotocamera posteriore da 5 megapixel, quindi oggi massima risoluzione per un qualsiasi tipo di tablet sul mercato, ma soprattutto rispetto alla versione precedente Dolby Surround con speaker frontali. Quindi il sonoro mi esce dalla parte frontale e mi permette magari di vedere film con applicazioni che oggi noi abbiamo appena lanciato sul mercato italiano come Infinity e di vedere quindi un catalogo ampio, ben 7.000 contenuti con le ultime serie televisive tipo Orange in the Black oppure The Big Bang Theory che sono serie che negli Stati Uniti hanno record di incassi o serie come La Grande Bellezza, quindi anteprime, ho addirittura 7.000 contenuti, se tu fai un paragone con Netflix che in UK ne ha 2.500 contenuti in alta risoluzione con sottotitoli e in lingua originale che posso grazie allo schermo in full HD vedere tranquillamente sul mio divano. Come dicevo, chi è l'utente finale? Il Mobile Professional. Il Mobile Professional utilizza il prodotto non in ufficio ma fuori e per poterlo utilizzare cosa cerca? Cerca un prodotto che sia stabile. Il prodotto stabile come lo puoi ottenere? O con un kickstand o supporto posteriore rispetto alla versione precedente che aveva due angolazioni a oggi è regolabile fino a diventare totalmente piatto, quindi tu pensa quando vuoi prendere appunti, lo vedi sulla ginocchia, perfetto. Oppure ancora meglio se voglio utilizzarlo per poter scrivere un articolo ad esempio come giornalista ho una tastiera nuova perché è una type track di dimensioni 12 pollici che si collega come la precedente, ma qual è la novità? Grazie a un meccanismo meccanico mi permette di attaccarsi allo schermo del tablet e diventare un dispositivo unico, a tutti gli effetti come un notebook, quindi a questo punto massima stabilità, track perde esteso, molto più ampio rispetto a quello precedente, con movimento meccanico che mi permette un utilizzo uguale a quello che mi offre questo tipo di notebook, quindi mobilità un oggetto perfetto. Il prodotto come tipo di caratteristiche e di processore parte da una versione iCore 3 per un utente meno esigente fino ad un iCore 7, nelle memorie 64GB, 128GB, 256GB e 512GB, verrà lanciato sul mercato italiano il 28 agosto attraverso i principali riteneri, MediaMarket, Euronics, Unieuro e Esper, ma è a oggi ordinabile già sul nostro sito, sul Microsoft Store o sugli store dei nostri riteneri o nello stesso tempo nel punto vendita stesso con un'offerta speciale. Se si preordina Surface Pro 3 in qualsiasi tipo di processore si può avere Office 365 personal gratuitamente, proprio perché pensiamo che Office complementa perfettamente la produttività e il mobile fit. Proprio perché i mobile professional e i creativi hanno un'esigenza e un controllo del design molto importante sono degli stilisti, come vedi il corpo è un corpo in alluminio, uguale a quello del Surface 2, ma con uno spessore di soli 9,1 mm, con le prese d'aria e con le stesse porte di produttività, quindi una USB 3.0, una porta HDMI, una porta per il caricatore a 36W, quindi il doppio della velocità rispetto a quello precedente e anche uno slot per la memoria espandibile alle 64GB, in un peso di soli 800 grammi, quindi nessun prodotto notebook o tablet sul mercato in questo momento con questo tipo di processore Intel ha questo peso, quindi mobilità, design, spessore, leggerezza, il massimo della portabilità di un oggetto produttivo. Grazie mille, grazie a te. Allora un saluto da Tebginus da Milano e ci vediamo grazie a tutti, vi aspetto numerosi per la prossima, ciao!